Luca Calvani intanto benvenuto su spettacolomania siamo molto felici buongiorno a tutti e grazie veramente di questa opportunità di fare una bella chiacchierata con voi bene grazie a te del tuo tempo allora andiamo subito al dunque il cacio con le pere questo è il titolo del film che esce al cinema il 9 marzo è una coppiata gastronomica strampalata che però ha successo da anni no un po come accade ai due fratelli ruspanti protagonisti del tuo film quindi per questo l'ha intitolato così posco e fredde sono due fratelli alle antipodi due fratelli che hanno e che sono profondamente diversi che ovviamente come tutti i fratelli nascono dallo stesso luogo qui hanno una storia comune che sicuramente alla radice alle loro radici sono uniti e che la vita si è separato per interessi e ambizioni paure e che a un certo punto come spesso succede quando nella vita si si arriva un attimo a fare un imprimo un primo diciamo una bozza come quando si fa si fa il modello unico provvisorio no a dicembre no che si dice vediamo un attimo quante saranno cominciano a fare un po di conti a guardarsi indietro e soprattutto fred secondo me che è un'anima forse più diciamo è un po più irrequieto un po più inquieto ecco non l'abbiamo ancora detto perdonami fredde lo interpreti tu che sei anche il regista io comincio a domandarsi veramente se quello tutto quello che su cui lo ha puntato su questa ambizione che l'ha portato così lontano da se stesso a immergersi a mescolarsi nel mondo in realtà poi è quello che lui veramente voleva e l'altra invece che non ha mai veramente rilanciato i dadi che ha diciamo ha deciso di diciamo si immagina la sua vita sia semplicemente questo un su seguirsi e sono entrambi e che il ritorno di fredde catalizzatore perché quello che scopriranno questi due fratelli è che in realtà sono un po la chiave rivolta dell'altro no e quindi sono la chiave della loro felicità che trovano insieme un'altra felicità in attesa certo ci sarà ci sarà ovviamente un finale a sorpresa doppiamente a sorpresa ma non vogliamo spoilerare però ci teniamo a dire che è piaciuto ti ha sorpreso sì 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 alla fine si mi sono anche divertita cioè no durante il film mi sono divertita ma alla fine anche l'escamotage del finale mi ha molto divertito no volevo volevo citare Francesco Ciampi che ovviamente interpreta Fosco Francesco Ciampi che è un attore delizioso esatto sì sì delizioso come anche parliamo tre secondi del cast è un Gianluca Gori inedito perché praticamente è Drusilla Fuerre senza no trucco e parrucco elegantissimo comunque esatto di classe come sempre e poi c'è Anna Safroncic che è Sofia che è la donna un po diciamo contesa tra i due fratelli anche se lei non lo sa è una rivelazione in questo film Anna perché ha una comicità ha un brio e allo stesso tempo ha quel a quel tipo di posatezza è una bella donna posata che ha proprio che ha tutti i caratteri della della protagonista femminile che fa innamorare tutti tutti a tutti salta un attimo il cuore va salta un battito quando la vedono e quindi che però questo nasconde sotto di lei invece una grande insoddisfazione dell'essere sempre messa in quella posizione di essere messa un po la fuori come un trofeo anche quello è una cosa mi piaceva un po cioè mi piaceva con tutti questi personaggi raccontare un po delle cose che ho percepito io in questa vita di anche pubblica oppure nel mondo dello spettacolo ma anche anche cose personali che un po a tutti ho dato scusami mi sono fermato un attimo perché ho un problema ecco niente qui escono le note ok no no puoi continuare va bene vuoi di rispondere la domanda da capo no 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 va bene tanto abbiamo un po chiuso e poi naturalmente c'è Elena di Cioccio che diciamo è no la fase comica è una grandissima una grandissima sorpresa perché è stata la sua gente Serena Quattroocchi a consigliarmela e avevo in mente un'altra persona in testa avevo scritto questo ruolo per un'altra attrice e però non mi ha risposto al telefono però siamo amici però non ha proprio risposto e quindi ero un po con il cuore babbattuto da questa cosa e Serena che prima quando facevo l'attore della mia gente quindi siamo rimasti in contatto mi ha fatto c'è no una da farti vedere io ma no ma non va bene di Milano Elena di Cioccio l'ha sbaragliato perché una che fa un provino dove fa finta di essere alla cassa parlare con qualcuno fuori tutte le spalle e fa finta di scansionare i prodotti nel frattempo gli commenta cioè mentre scansiona guarda un prodotto immaginario guarda un cioè riempie le sue interpretazioni di tanti piccoli infiorescenze che fanno proprio che sono di solito sono nella cartuccella delle grandi attrici quindi ti sorprende perché una ragazza ha fatto la comica ha fatto l'aliena a una che ha una carriera televisiva che è molto più rimbombante della sua carriera artistica o matrice quindi sorprende incredibile e poi Marta Zoffoli certo che ha portato a questo film una cifra che solo lei poteva portare anche Marta è stata una sorpresa però lei ha dato a Fred un un connotato un po' più infantile c'è il modo in cui Marta guarda Marta alias scusate Monica guarda Fred gli dà quel connotato un po' lo diventa un po' meno sempre coglione però un coglione un po' più adorabile ecco diciamo un coglione un po' manggia di prendere i tipi di lei di schiaffi e di baci insieme un coglione adorabile la trovo una definizione perfetta per il tuo personaggio ovviamente ma io penso che sicuramente mia sorella ti entrasse in questo film direbbe lui è lui volevo dire Carolina Gonnelli prego volevo solo spiegare Carolina Gonnelli certo che adesso sta facendo Portofino per Sky una serie inglese una ragazza che è arrivata e aveva proprio questa incisività questa potenza magari poi sul film non riesci neanche a dare a tutti però in quella scena lavorare con questi attori che ti danno così tanto e che ti stimolano Piotr Adamczyk in quella scena semplicemente a fianco di Anna Safronczyk volevo comoreare questa scena che se togli il volume sembra una scena d'amore tra le persone si preparano per andare a cena che si dicano cose carine in realtà non dice cose terribili no volevo creare questo questo contrasto anche tra la la vita di copertina e quello invece poi c'è sotto certo e io ho una curiosità però allora io ho visto che questo il cacio con le pere era in realtà una sorta di trailer un corto no nel 2016 e che nell'idea di farci qualcosa di più appunto lungo più importante più descrittivo come un film volevi far entrare nel cast Katrin Kelly Lang perché tu hai vissuto e lavorato a New York per un sacco di anni quindi hai fatto tante cose tra cui Sex and the City tra cui Beautiful l'hai conosciuta sul set di Beautiful perché hai fatto Beautiful l'abbiamo conosciuta sul set di Beautiful è venuta a Prato a conoscere Francesco ha conosciuto il progetto glielo ho tradotto l'ha letto e infatti che è stata poi anche più questa la traduzione che ho fatto per Kelly è stata poi pivotale per avere più oltre e per avere il fondo di investimento perché il fondo di investimento cinese dove ha legto una sceneggiatura che potresti essere tradotta dal cinese dall'inglese quindi però Kelly in realtà quando poi siamo arrivati al dunque aveva ricominciato le riprese di Beautiful quindi non era possibile purtroppo noi volevamo girare in questa finestra che ruolo avevi pensato per lei? Quale ruolo avevi pensato? ho pensato in ruolo di Sofia e quindi ho conosciuto il ruolo di Sofia e ho detto che Sofia sarebbe stata più grande io ho fatto questa idea ma che questa compagnia c'era la compagnia dei grandi dell'età di Francesco e l'età dei più piccoli che erano dell'età mia no perché tra me e Francesco ci sono messi sei anni di differenza nel film abbiamo cercato di allargarla a quest'età io sembrando più un quarantenne quarantunenne invece ero già 45 e Francesco quindi volevamo creare questo divario allora Kelly che era ancora giovanilissima sarebbe stata perfetta con lui insomma e invece poi problemi di quando metti insieme i film è come un enorme castello di carte e costantemente casca dei pezzi e lo ricomponi e lo ricomponi quando arrivi a dire ciac si comincia e sono tutti lì è incredibile senti immagina insomma una grande soddisfazione per te parlavamo di età ora non sei ancora al mezzo secolo ma diciamo ci stiamo avvicinando sono faccio 49 per quest'estate ci stiamo avvicinando quindi perché hai deciso proprio adesso di cimentarti dall'altra parte della camera da presa come si dice in questi casi io credo che quello spesso succede è che ci volevano l'opportunità giusta ci volevano l'occasione giusta e soprattutto la provare che tutte quante queste stelle si allineassero quindi quando questo progetto in realtà è cominciato molto tempo prima io il cacio le pere ho cominciato a scrivere nel 2009 pensa un po' e poi la vita non è sempre prendere altre cose c'è questo lavoro su quest'altro quindi il tempo di mettersi lì è stato importante avere Alessio Venturini e Francesco Ciampi che quando siamo in tre a fare le cose insieme anche se poi magari stai te al computer però hai questi appuntamenti due volte alla settimana che ti rivedi e quindi crei un team di lavoro anche un workflow che ti permette che se no la vita io sono padre o sono imprenditore ho 50.000 cioè costantemente le dite 5 torte anche adesso sto scrivendo un'altra cosa però ecco c'è una persona che per settimane mi chiama e dice allora le pagine questa settimana o le chiedo io alla gente perché se no mi perderei di darti un tempo diciamo di darti un termine senti invece sono un po' tentacolare io è perché fai un sacco di cose quindi sei un po' multitasking no? come noi donne anche randomico anche un po' randomico mi hanno detto anche un po' randomico sì ci riflettiamo su questa definizione un'ultima cosa si diceva prima hai fatto un sacco di cose nella vita sei stato in Italia sei stato all'estero hai fatto appunto Sex and the City Beautiful hai fatto un film Disney hai fatto anche dei reality hai vinto un'isola dei famosi qui in Italia naturalmente era nel 2012 poi hai fatto Uomini e Donne 2006 2006 2006 è vero erano altri tempi e infatti questo ti volevo dire ma c'è qualcosa che rinneghi nella tua carriera o che pure magari in quel periodo tornando in quelle condizioni magari lo rifaresti io lo dovresti mettere qui a dire con la penna questo sì questo no non conoscevo il mercato quello e quell'altro di certo non sapevo cioè io non sapevo non conoscevo l'isola e quello che non ho la televisione neanche qui in questa casa non ho guardato la televisione quindi l'isola me l'hanno raccontata io ho pensato che fosse come Lost e un grande appassionato di Lost e quindi io sono andato per quell'esperienza lì poi tutta la macchina che è intorno la macchina autorale che crea l'isola di Magnoli ai tempi Banigiai che creano questo questa cioè io l'ho guardata un po' anche da interno un po' anche affascinato dalla macchina creativa che tesse costantemente questa tela di racconto per poter confezionare un prodotto daily che viene consegnato ai loro ai loro ai loro seguaci cioè quindi dal punto di vista dello storytelling molto affascinante certo che è una situazione di grandissimo stress io l'ho fatta a 35 anni ma io ora a 33 anni ora non lo farei mai mai più nella vita ma poi erano anche alti tempi forse io ero più curioso ero più speculato avevo forse da rendere meno contare persone adesso c'è ieri c'è la mia figlia in sala anche prima ero molto orgoglioso che mia figlia vi vedesse con questo stuolo di talentuosi che avevano fatto una cosa di cui ero veramente fiero non so se mia figlia che mi dovesse vedere mentre sto nello schermo con qualche realisi sarebbe particolarmente orgogliosa so che mi tollera quando faccio lo scemo a cortesia per gli ospiti mi tollera hai fatto anche vuole germinise a uomini e donne a corteggiare si si infatti io entrai entrai in questa cosa in questa bolgia che non conoscevo questa bolgia varia pinta un circo con questi ospiti io non conoscevo questa cosa perché io fino all'anno prima ero prima a new york poi a losagna ma sono stato poi a 14 anni quindi proprio mi mancava proprio della televisione italiana di quegli anni non sapevi nulla io sono andato via questa roba non c'era sono tornato e c'era era il momento e quindi il mio manager disse no questa devi farti vedere da Maria dalla Fascio devi farti vedere da loro perché loro possono veramente lanciare uno e ha qualcosa da dire perché sono sempre stato uno e chiacchiera non è che sono sempre stato uno vabbè poi eri anche sei tuttora per carità un belloccio insomma quindi ci stavi per i corteggiatori puntano a quello però quando sono arrivato lì mi sono accorto che ero terrorizzato perché cazzi cosa faccio qui cioè veramente io veramente mi imbarazzo perché non sapevo cosa ci facevo bene esattamente lì sapevo che devo star lì non far brutta figura molto difficile perché insomma quando sei in quel circo ti viene di pestarne due o tre quindi e quindi quella cosa lì ovviamente dal punto di vista della carriera per il calcolo è un errore è un passo falso però ha creato l'anello che ha permesso agli autori dell'isola che mi hanno conosciuto e facevo i monologhi dell'andraccio della morte capito nei teatri capito di tivoli però ha permesso a loro di agganciarmi di raccontarmi dicendo lui è un famoso ha fatto le fate ignoranti poi adesso ha fatto anche uomini e donne cioè per loro era un gancio che gli serviva per potermi collocare perché la televisione ha bisogno di etichette ben chiare certo e anche quello poi mi ha ghettizzato per il resto della mia vita come attore italiano perché non sono mai stato preso sul serio per vedere l'isola però mi ha permesso di prendere le borse e tornare in Inghilterra prendermi una gente e farmi delle esperienze pazzesche quindi dal punto di vista umano tu hai visto questo film che parla proprio di questo che parla delle incredibili opportunità c'è un film pazzesca adesso tutto insieme ora come si chiama anche di seconde opportunità parla questo film ma hai visto Everything All At Once il film è candidato all'Oscar sì cioè parla di quante quante sono le state potevamo prendere io adesso guardo la mia vita e certo non somiglia a nessun'altra delle carriere che pensavo di intraprendere capito? però guardo Gwyneth Paltrow con Goop e dico quella cosa lì mi piace perché una che ha capito che questa cosa ha una possibilità di raccontare come vivere la vita al massimo come spremere il midollo della vita e dire qual è il posto migliore da vedere la pizza più buona da mangiare il posto scoprire costantemente e io quella cosa lì mi fa impazzire cioè adoperarsi per fare più cose possibile e sperimentare di più e forse se fossi stato l'attore di punta uno di quei cinque fa tutto il cinema italiano che sono cinque sei forse questo non mi sarebbe successo non avevo l'opportunità di fare l'intero designer in televisione ma io sempre ho avuto una passione per l'intero designer la mia casa è tutta curata tutti i piccoli tesori che trovo in giro mi circondano mi coccolano però questo mio modo di vedere la vita poi forse non avrei potuto se avessi avuto i soldi per avere un arredatore che mi faceva il quarto appartamento attivo a Roma perché ero capito magari non avrei avuto non mi sarei sbattuto così tanto magari avresti fatto altro ma queste sono certo le occasioni della vita le sliding doors come vogliamo chiamarle e quindi per quello parlo di quello in quel film perché lui si guarda intorno e dice ma aspetta un po' capito? esatto e raccontare questo mio modo che è veramente il mio modo costantemente di domandarmi cos'è che mi renderà felice oggi cosa potrebbe essere e voglio ancora quella cosa lì me l'ho messo in testa quella cosa ma di solito non è mai quella cosa che me l'ho messo in testa è sempre quella cosa a 30 gradi più a sinistra che scopro nel percorso che mi sorprende come recitare o Gepi Cucciari Gepi Cucciari lei è meravigliosa Gepi è fantastico ma mette una pausa in un punto che apre delle voragini di verità e te tu fartici dentro sei completamente in alta marea è meraviglioso per esempio questo lo vorrei buttare sul film perché sono le sorprese quando ci sorprendiamo di noi stessi e quando vediamo il meglio quando ci veniamo messi di fronte alle difficoltà che dobbiamo tirare fuori della mente la grinta io ho girato un film che era ambientato per due terzi in esterno ha piovuto due settimane e mezzo capito? cioè non ha piovuto mai quest'anno ha piovuto mentre tu facevi il film capita esatto io quel novembre io non ho mai piovuto quell'ottobre e quel novembre non ho mai piovuto così tanto vabbè sì in effetti non l'hai girato quest'anno quando l'avete girato? nel 2019 ah ecco nel 2019 pre pandemia quindi abbiamo avuto anche la sfortuna di dover aspettare così tanto ma anche la fortuna di prendere anche quella distanza dal film e quindi ieri abbiamo fatto quest'anteprima a Prato e le attrici erano gli attori erano completamente cioè si sono proprio sciolti a vedere questo film che non se l'aspettavano più non ci chiedevano più però questo è il momento giusto perché poi secondo me la psico la schizofrenia dell'andare andare 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 questo senso di voler scendere un po' dalla ruota di non essere sempre connessi collegati di sapere forse tre anni fa sarebbe stato un po' in anticipo il concetto ora invece secondo me è un film dove non ci sono tutte queste battute serrate ma c'è i tempi che è modulato dove si parla di cose ma poi si ride forse è un film forse più adatto al momento che stiamo vivendo dove tutto è così serrato no? sì sono d'accordo sono d'accordo lo ricordiamo quindi al cinema dal 9 marzo il caso con le pere di e con Luca Calvani e con tantissima altra bella gente di cui abbiamo parlato si parla di tante cose però insomma dovete vederlo perché insomma noi ne abbiamo parlato è un film che esce con distribuzione indipendente quindi sono io a telefono con gli esercenti che lo piacciono nelle varie città quindi sostenetelo perché è veramente un lavoro d'amore e che sono felicissimo di condividere con voi grazie davvero cari amici di Spettacolo Mania un grande abbraccio da Luca Calvani ci vediamo al cinema grazie a tutti